Benvenuti ad Impara con me. Nel video di oggi riassumerò in breve la vita di Carlo Magno, ma soprattutto dedicherò questo approfondimento ad un personaggio che ha lavorato per Carlo Magno e che mi ha incuriosito molto e che conosceremo più avanti. La vita di Carlo Magno la conosciamo grazie ad Eginardo, che pochi anni dopo la morte dell'imperatore ne scrisse la biografia. Eginardo fu un uomo fidato di Carlo Magno, continuò a lavorare anche per il figlio di Carlo, Ludovico. Eginardo scriverà una biografia non in ordine cronologico, ma racconterà degli eventi che sottolineavano il carattere di Carlo Magno. I genitori di Carlo furono Pipino detto il Breve e Berta. I primi due figli furono Carlo, futuro Carlo Magno, e il secondo genito Carlo Manno. In punto di morte Pipino divise il regno franco tra i due figli. Ma quando nel 771 muore anche Carlo Manno, ecco che Carlo I diventerà l'unico re di tutto il regno franco. Carlo Magno affronterà tante battaglie, alcune le potete leggere nella slide. Sottomise Iavari, Bavari e Sassoni e organizzò il suo impero con Contè e Marche. Dalla capitale del regno a Quisgrana partivano poi i missi dominici come suoi diretti delegati e tutti erano soggetti al controllo degli ispettori per evitare abusi. Nel Natale dell'Ottocento Carlo venne incoronato imperatore e fondò l'Accademia Palatina, ricamando attorno a sé i più grandi colti dell'epoca, dando vita al rinascimento carolingio. Con Carlo Magno si impostero delle leggi legate all'istruzione chiamate Capitolari. Nel Capitolare 802 si impose che tutti dovevano imparare a leggere e a scrivere e che l'alunno doveva rimanere a scuola fino a che non fosse ben istruito. Con il concilio di Voson ogni città o villaggio dell'impero doveva avere una scuola in cui i sacerdoti avrebbero insegnato gratuitamente. Ed eccoci arrivati all'ospite speciale, vi presento Alquino di York. Fu consigliere di Carlo Magno e venne nominato a bate nell'abbazia di San Martino a Tours. Dai re carolingi ricevette in dono cinque abbazie che trasformò in scuole. Alquino compì tanti viaggi per raccogliere libri e trascriverli. Fu un innovatore della scuola perché suddivise le classi per materie e ogni materia aveva il suo sacerdote specifico esperto di quella materia. Alquino è anche famoso perché trascrisse le prime quattro Bibbie fedeli all'opera di San Girolamo. Ai tempi di Alquino l'istruzione si basava sul trivium, grammatica, retorica e dialettica e sul quadrivium, geometria, astronomia, aritmetica e musica. Alquino insomma è stato un grande maestro. Tanti di voi come me prima del video non lo conoscevano ma se vi dico che fu proprio Alquino l'idiatore del proposito numero 18 ora provate a risolvere questo famoso enigma di logica. Per chi si fosse incuriosito e volesse esercitarsi con problemi di logica matematica vi consiglio di ricercare i famosi propositi di Alquino. Nelle ultime due slide vi riporto altri due suoi esercizi. Vi lascio all'enigma del contadino e buon divertimento! Saluti da Giacomo!